È il 24 novembre 1991 quando alle 18.48 Freddie Mercury muore. A 45 anni il cantante dei Queen, band leggendaria del rock con all'attivo tra i 150 e i 300 milioni di dischi venduti, esala l'ultimo respiro nella sua casa di Ears Court a Londra. La broncopolmonite aggravata da alcune complicazioni dovute all'AIDS ha la meglio sul suo corpo già devastato da atroci dolori, una vita piena di eccessi e contraddizioni, quella vissuta da Farrock Bulsara, questo è il vero nome di Freddie Mercury, che nel 1970 fonda i Queen con Brian May, Roger Taylor e John Deacon. La popolarità stravolge la vita di Freddie e lo porta a sperimentare l'amore libero nei nightclub per omosessuali dopo aver trascorso sette anni insieme a Mary Austin. Alla sua grande amica, di cui dirà in un'intervista, per quanto mi riguarda è come se fosse mia moglie, lascia la sua residenza a metà della cospicua eredità e il compito di non svelare mai cosa ne ha fatto delle sue ceneri. A confessare al mondo intero i vizi e gli eccessi del cantante dei Queen ci penso un suo strettissimo collaboratore, Peter Freeston, in un libro che ha fatto molto discutere. Soltanto quattro giorni prima della sua morte, di cui oggi si celebra il venticinquesimo anniversario, il cantante ha voluto diffondere un comunicato stampa tramite il suo manager. Desidero confermare, ha scritto, che sono risultato positivo al virus dell'HIV e di aver contratto l'AIDS. Ho ritenuto opportuno tenere riservata questa informazione fino a questo momento, ha spiegato, al fine di proteggere la privacy di quanti mi circondano. Tuttavia è arrivato il momento che i miei amici e i miei fan in tutto il mondo conoscano la verità e spero che tutti si uniranno a me, ai dottori che mi seguono e a quelli del mondo intero nella lotta contro questa tremenda malattia.